Perché la Lega è così contraria alla legge sullo Ius Soli? Oggi c'è stata una grande bagarra al Senato con i leghisti molto rissosi che insieme anche ai 5 Stelle hanno fatto strizionismo, hanno fatto proteste. Perché la cittadinanza come il diritto di voto arriva alla fine di un percorso. Non è un biglietto omaggio per il Luna Park. In questo momento ci sono 150.000 italiani che ogni anno scappano dall'Italia per lavorare. 200.000 immigrati che prendono la cittadinanza, 200.000 immigrati che sbarcano e le culle degli italiani sempre più vuote. Io dico, manteniamo la legislazione di oggi che a 18 anni permette a chiunque di scegliere consapevolmente se diventare cittadino italiano, esattamente ad esempio come accade in Olanda che è il paese più multiraziale, più multiculturale, più aperto del mondo però aspetti 18 anni per decidere se diventare cittadino olandese o no. Ecco, le voglio ricordare però che in generale nei paesi democratici, civili, invece questa legge c'è. Beh, perché l'Olanda non è democratica e civile. Io penso che ci sono tanti ragazzini che vanno a scuola con mio figlio. No, ma, guardi, erano momenti storici diversi. Adesso mi permetto di dire che con tutto il caos che c'è in giro per il mondo un po' di regole, un po' di controlli, un po' di maturità. Ripeto, i ragazzini che stanno facendo l'esame di terza media con mio figlio e potranno fra tre anni decidere di diventare cittadini italiani non hanno nessun diritto in meno rispetto ai ragazzini italiani. A 18 anni da maturo, scegli se diventare cittadino italiano o scegli se mantenere la tua nazionalità perché molti non vogliono neanche diventare cittadini italiani. A 18 anni da maturo, scegli se diventare cittadini italiani